buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi usciamo un po dai video ordinari e facciamo un video un po più particolare riflettevo su una cosa questa è l'introduzione proprio io abito a messina messina è una città strana dove accadono cose strane venti strani cose davvero che sono un po fuori dalla realtà che però positivo negativi che siano che però restano come sul dire un po imprigionate qui perché non c'è una notizia un qualcuno che le porti fuori quindi ho pensato di fare ogni tanto non sempre ovviamente qualche video così free misto categoria intrattenimento di questa sorta di mini rubrica su cose strane su storie strane illogiche insensate paradossali che accadono proprio qui nella mia città e oggi iniziamo con la prima puntata prima di continuare a guardare questo video iscriviti al canale e metti mi piace ricordati che puoi trovare suggerimenti su varie categorie di video che potrebbero interessarti come ad esempio automobili blog viaggi intrattenimento e tanto altro la storia che racconterò oggi e sa un po dell'incredibile e inizia circa un annetto fa ancora si deve concludere poi vedremo i vari sviluppi per ora se ne sente parlare spesso e quindi ho detto sarà la mia prima puntata ed è la storia della spiaggia naturista di santo sabba o san sabba nessuno sa esattamente come si chiama in questa località c'è chi la chiama san sabba c'è chi la chiama santo sabba in realtà nessuno sa esattamente come si chiama è la terza interruzione del video però sono sicuro che riuscirò finalmente a portarlo a termine perché dico allora spiaggia naturista di san sabba o santo sabba che non si trova a santo sabba ma si trova in un'altra località che non mi ricordo come si chiama perché una località di mezzo tra un paese e l'altro ok va bene la confusione regna sovrana però c'è una cosa che sappiamo e che era appurata fino allo scorso anno ovvero questa spiaggia è stata una turista qualcuno dice dagli anni 80 qualcuno dice dagli anni 70 qualcuno dice dagli anni 90 in tutti i casi abbiamo almeno 30 40 50 anni di storia su questa spiaggia lo è sempre stata addirittura anche su anche google maps lo sa quindi perché c'è proprio scritto su google maps che già la turista santo sabba ecco quindi lo sanno tutti sa anche google ok tutti tutti e quindi non essendo autorizzata ma essendo sempre stato così è sempre andato bene perfettamente lo scorso anno la scorsa estate qui arriva l'atto 1 di questa strana storia l'atto 1 qual è la scorsa estate in mi ricordo se era in settembre o in agosto in fine agosto comunque alla fine della stagione balneare guardate alla fine della stagione balneare cosa succede che viene organizzata una sorta di retata dove praticamente cosa si cercava voi direte cosa puoi andare a cercare si cercavano persone nude nella spiaggia naturista ed è stato questo lo scandalo tra virgolette che fece il comune di messina insomma la polizia chi è che fece questa irruzione cosa la notizia trapelò velocemente in città e tutte le testate locali giornali eccetera eccetera quindi la riportare poi direte benissimo ma in realtà io all'inizio credevo fosse una notizia falsa una fake news perché è come dire trovate persone che mangiavano dentro un ristorante qual è la notizia cioè fondamentalmente sono in un ristorante mangiano sono alla spiaggia naturista stanno nudi cioè qual è lo scandalo vabbè ci fu lo scandalo ovviamente nessuno delle istituzioni ovviamente parliamo sapeva che da oltre 50 anni esisteva questa spiaggia stranamente il che sinceramente mi sembra o non conosci il territorio e quindi non devi far parte delle forze dell'ordine perché se uno non conosce il territorio è ovviamente quella è la cosa base fondamentale o lo conosci e non hai detto niente perché non ci faceva niente poi ad un certo punto ci fa e quindi in quel caso hai qualche problema mentale in tutti i casi non va bene però comunque ci fu questo scandalo una volta che uscì questo scandalo fecero perché poi me lo sono fatto raccontare ho visto le immagini sono scesi con i droni i carabinieri a piedi la bar la nave della guardia costiera cioè avete presente quei film di mafia no dove devono prendere il boss e quindi li vedi con gli aerei ci avevano gli aerei se non sbaglio qualcuno disse cioè fatevi conto è un film di mafia devi andare a prendere il boss nella sua abitazione e quindi fai la redata gli aerei i droni le persone a piedi le pattuglie lì c'era il mare quindi ovviamente pure la guardia costiera c'è proprio circondi il boss perché così non può scappare ecco è stato quello stile ma cioè ma voi vi rendete conto l'ignoranza di alcuni individui ma proprio l'ignoranza cioè cavolo l'aereo cioè dai vabbè comunque fecero due multe perché poi gli altri a quanto ho capito non so se si coprirano comunque fecero due multe da 5.000 euro l'una ovviamente queste multe non furono mai pagate chi è che ti paga una multa da 5.000 euro se la fai da 100 da 200 500 magari te la potrebbero anche pagare ma dai 5.000 euro no arriviamo quindi all'atto numero due dopo questa sceneggiata insomma la vogliamo chiamare sì è una sceneggiata alla fine è stata fatta questa pagliacciata fondamentalmente no io ho fatto l'esempio prima lo scandalo di trovare gente che mangia in un ristorante uguale uguale dopo questa pagliacciata ovviamente un qualcuno più intelligente sicuramente di qualcun altro e più obiettivo parlando sempre del comune di messina disse ma scusate questa cosa c'è sempre stata da 30 40 50 60 anni tutti lo sapevano quindi non è che era una cosa segreta eccetera eccetera nessuno si è mai lamentato perché abbiamo fatto questa cosa fondamentalmente perché abbiamo sprecato tempo soldi energie e tutto per fare questa cosa non ha senso e ma sai legalizzata non legalizzata insomma tutte le varie speculazioni del caso va bene allora a questo punto legalizziamo la via perché c'è comunque c'è punto e allora si fece la domanda appunto in consiglio comunale per la legalizzazione ufficiale per l'ufficializzazione di questa spiaggia anche con l'aiuto di alcuni enti esterni se non sbaglio darci che qualcun altro comunque insomma ci sono state varie vari interventi in parla in trallazzi io non è che ho seguito benissimo la questione però più o meno è successo questo ovviamente le multe a quanto ho capito poi non sono sicuro però comunque furono annullate ovvio e palese dico non è che c'era un genio ci volevo un genio o multe inutili e ci fu questa questo voto appunto per legalizzare o meno la spiaggia ovviamente il risultato fu positivo si votò per la legalizzazione della spiaggia a posto tutto a posto direte voi no e invece no arriviamo all'atto numero 3 ovviamente cioè arriviamo a pochi mesi fa a uno o due mesi fa quando si ricominciò a parlare di questa cosa con l'avvento dell'estate il nostro sindaco si è dimesso per candidarsi alla regione e allora arrivò un commissario il commissario giustamente cosa fa controlla tutto quello che è stato fatto fino a quel momento e porta avanti appunto le cose già fatte e infatti firmò questo commissario firmò e questa spiaggia diventò ufficiale a posto ma 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 qualcuno un privato non so chi però comunque ci sono gli articoli pure di giornale un privato ad un certo punto dopo che ci fu questa firma si svegliò e disse però io non sono contro la spiaggia naturista la potete fare però dovete interpellare me perché quel terreno quel territorio in realtà secondo visure catastali e bla 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 dovrebbe essere di mia proprietà ed è una cosa quanto meno strana perché perché all'inizio quando ci fu questo fatto venne scoperta anche una sorta di baracchetta non era una casa abitabile ovviamente una baracchetta sulla spiaggia e praticamente ma chi è il proprietario chi non è nessuno il proprietario non si sa chi l'ha fatta non si sa quando è stata fatta perché ovviamente secondo le leggi è una costruzione abusiva poco importa se una baracchetta messa nella spiaggia quindi un rudere fondamentalmente o è un palazzo di dieci piani con ascensore eccetera eccetera poco importa è comunque un immobile e quindi se c'è un proprietario di quel terreno è responsabile di quell'immobile immobile e quindi rischia caro e salato nessuno tutto a posto ora invece esce fuori questa cosa ok cioè voi vedete il paradosso c'è il sito no sono proprietario forse bo vediamo una porzione di spiaggia forse non l'altra le visure eccetera questa cosa mi ricorda un po quello che è successo ad agrigento un anno fa circa quando un tizio di cui non so neanche il nome si proclamò veramente sembra una cosa assurda poi uno dice si programò proprietario secondo lui del terreno su cui poggia la scala dei turchi e quindi proprietario della scala dei turchi che quindi dovrebbe essere privata e non pubblica e ci fu una causa che è ancora in corso insomma robe che possiamo vedere solo in italia perché fondamentalmente per chi ha studiato qualcosina e non è completamente ignorante un terreno demaniale è del demanio e quindi non può costituire oggetto da parte di terzi di proprietà vendita usucapione acquisizione non può essere pignorata perché non può essere di un privato perché fa parte delle mani ovviamente in questo caso del demanio marino sia nel caso della scala dei turchi sia nel caso della spiaggia di san sabba ovviamente però sembra che qualcuno non conosca le leggi a dovere comunque ci fu quest'altra storia ora al giorno d'oggi non sappiamo ancora allora al giorno d'oggi c'è un foglio che dice questa spiaggia è ufficiale si devono mettere i cartelli fare i lavori eccetera eccetera ok ma c'è già una firma quindi al giorno d'oggi se tu vai e ti spogli sei tranquillo nel senso non sei intorto nei confronti di nessuno ok però ancora la storia potrebbe continuare ad evolversi perché escono fuori cosine come se nulla fosse cose anche un po insensate e questa è la storia che ancora comunque deve concludersi immagino ci vorrà parecchio tempo di questa sfortunata spiaggia di sfortunata poi non è che la spiaggia che è la gente che ha problemi non è la spiaggia fondamentalmente e di san sabba di santo sabba a messina chissà come andrà a finire chissà se si farà avanti qualcun altro dicendo che è proprietario della spiaggia se qualcun altro farà qualche scandalo scandalo tra virgolette di questo tipo insomma vedremo come si evolverà questa situazione questo e vuole essere il primo video di una serie che farò ripeto ogni tanto su storie strane che accadono nella mia città storie che fanno ridere tra l'altro ci fu un meme lo scorso anno perché qui nella mia città c'è l'abitudine di parcheggiare in doppia fila in tripla fila e poi ci sono i parcheggi a pagamento e ci sono gli operatori che vanno a fare le multe nei parcheggi a pagamento quindi io parcheggio nel parcheggio a pagamento non non pago ovviamente mi fanno la multa io parcheggio in doppia fila passa lo stesso pelatore niente non mi fa niente non interessa perché quello fa multe per il parcheggio a pagamento poi se tu perché in doppia fila va bene ci può stare ecco certo magari se poi qualcuno deve uscire chiamare in carattere però ci può stare ci può stare e infatti ci fu un meme l'anno scorso che figli che fecero la gazzella del sud giornale satirico locale che diceva proprio nudisti in spiaggia si non si travestono non si fanno finta di essere delle auto in doppia fila per non farsi fare la multa cioè per farti capire no che fanno finta faccio finta di io sono un auto in doppia fila così non mi puoi fare la multa hai capito c'è vedete voi a che tipo di società abbiamo qui in sicilia mi riferisco anche al discorso della scala dei durchi anche se quello l'ho trattato in un altro video quindi ne ho fatto solo un excursus molto veloce ma perché lo avevamo già trattato però in sicilia siamo combinati così al paradossale del paradossale poi c'è stato qualcuno che si è scandalizzato che non sapeva neanche che esistevano questo tipo di spiagge cioè se tu non conosci il tuo territorio sei messo proprio male cioè se tu sai non sai cosa c'è nella tua città cristo dai fatti una cultura cioè parla in giro con la gente esplora davvero è una cosa incredibile ma qui da noi c'è genna e abbiamo l'orologio astronomico del duomo della cattedrale che è unico al mondo uno dei più belli unico al mondo questo orologio astronomico e si può salire visitarlo un biglietto di 2 3 euro che costa anche poco e c'è chi è di questa città di messina e non l'ha mai visto cioè tu non hai mai visto una cosa che è unica al mondo che hai nella tua città e che potresti vedere con due ore e cinquanta quindi ci vuole un po di aprire la mente almeno sul proprio territorio perché chiudo parentesi il viaggio deve iniziare da qui da dove abitiamo dalle nostre città dalla nostra provincia conoscerla sapere cosa c'è vedere i punti di interesse e importanti come per esempio in questo caso l'orologio astronomico facciamo l'esempio di messina per poi andare a vedere fuori è importante conoscere il territorio ebbene ragazzi detto ciò niente vi invito iscrivervi al canale mettere mi piace e condividere il video e ci vediamo la prossima settimana nel prossimo video e a presto con un'altra puntata delle storie strane paradossali della mia città buona domenica